ho anche già avuto il mio su euro canada estrina dollaro se mi dicessi io sono dentro solo il dax probabilmente sulla rottura dei massimi di ieri io questa mattina ero già fuori te lo dico perché in ottica amministrativa avrei comunque cercato di siamo a fine mese anche di portare comunque a casa una piccola percentuale un qualcosa no boom fare cassa per arrivare poi a fine mese aver fatto aver fatturato diciamo ecco se vogliamo mettere in termine più commerciante e quindi avrei in questo caso avendo comunque fatto un po ho fatto il mio queste due sia dax che yen potrei posso cercare di provare no a fare come dire fuori campo chiamiamolo così comunque il movimento più ampio meno di breve che potrebbe andare se non va perché deve ritracciare più o addirittura deve girare noi non sappiamo perché ricordiamoci sempre che noi la convinzione che noi abbiamo quando io ho la convinzione di un qualcosa come su dollaro yen o su il dax che ce l'ho anche su sterlina sterlina sono uscito per dire però la convinzione non è la realtà cioè è quello che io interpretando i movimenti di prezzo quindi con la mia interpretazione personale con le mie metodologie penso che possa succedere ma nessuno può cioè il dax magari martedì prossimo tra una settimana è a 14 mila e questo è quindi siccome io qui sul dax e sullo yen comunque sullo yen ho fatto siamo andati quasi a 300 pips di gain sul sul dax siamo andati quasi a 13 5 13 80 400 euro tp punti di movimento diciamo che o si incassava appena si girava un po qui e là oppure visto appunto la cosa che ho fatto che ve l'avevo detta già quando avevo fatto l'uscita di là mi aspettavo il dax che scendeva ma comunque intanto avrei tolto dal cumulo che aveva raggiunto dei picchi stava ritracciando il cumulo mio di guadagno e quindi una parte quella che mi sembrava arrivata l'avevo tolta quindi questa cosa importante queste cose che vi sto dicendo e questa gestione non è che voi dovete copiarla poi nel tempo ma dovete assorbire secondo me come dire la mentalità che sta dentro questa queste gestioni che non è scritta sui libri non è scritta sui libri non c'è perché questa è l'arte dell'imprenditoria del trading cioè ci vuole quella situazione quella anche esperienza molto esperienza secondo me qui è molto esperienziale la cosa e ognuno si fa la sua qui ovviamente se voi queste cose sembrano delle cose come dire che magari soprattutto perché all'inizio tralascia un po' ma sono probabilmente tra le cose più importanti perché la parte di amministrazione delle proprie dei propri guadagni o delle perdite è fondamentale che non vuol dire che appunto voi non dovete copiare nel senso che io qui non so mai la verità assoluta cioè quello che sia il miglior risultato in quel momento perché non lo potremo sapere mai neanche tra 40 anni quando faremo trading da 60 e va bene no no però possiamo fare la cosa migliore in quel momento cercando di capire le opzioni che possono portare al peggiore quindi il peggiorativo oggi per me è su queste due posizioni dove facevo 200 e 100 euro quindi da 300 euro totale 200 sul dax e 100 euro di massimo picco di guadagno che ho avuto andare a zero quindi ho preso quei 300 che stavo guadagnando 200 su una parte 100 sull'altra stavo guadagnando su queste li ho messi a disposizione per provare a fare il movimento più ampio senza più però perdita quindi il mio stop loss diciamo è il guadagno attuale nelle altre invece siccome erano svariate posizioni ho deciso di dove mi sembrava finito un movimento almeno di breve cosa che pare anche un pochino almeno nel breve nel breve non nel medio no invece lì ho capitalizzato praticamente sulla parte migliore no quindi questa cosa importante perché poi fa la differenza non è una questione di risk reward di no di un come dire di un sistema robotico di non è anche abbastanza difficile da spiegare ecco perché farlo vedere coi fatti e poi spiegarlo mi permette di essere più efficace incisivo con voi che non dovete ripeto copiare ma dovete capire ma assorbire come fa magari ardu che lo fa da tanto tempo che ha fatto anche tanti errori che da questi errori ha cercato di migliorarsi che ha fatto un suo percorso e poi faccio il mio con il mio carattere faccio un po il mio però quello che voglio che passa è non possiamo lasciare sempre che il mercato debba andare ai target che noi siamo prefissati non far più niente cioè possiamo anche farlo però secondo me se vogliamo guadagnare nell'ottica del trading dobbiamo cercare di essere un po' più bravini un po' più schillati su questo perché altrimenti sarebbe tutto molto facile un po' come con il programmino nel sistema automatico lo metti là e funziona ma in là i soldi sugli alberi neanche nel trading sulle candele non non ci sono così dobbiamo lavorarci quindi il fatto di avere un'amministrazione e di capire avere degli obiettivi secondo me è importantissimo ve lo dico sempre lo dico da un po' su ve lo dico da sempre ma da un po' ci batto un po' di più perché secondo me avere degli obiettivi non è limitante è stimolante aiuta poi a chiudere il mese bene magari non ha un obiettivo a volte non sempre ma aiuta ad avere a incassare anche a lasciare perdere per forza il grafico in sé ma a farci anche dei conti in tasca perché poi alla fine non è che il trader bravo è colui che ha fatto tutti i compiti per casa e no è quello che poi alla fine tira la linea e i soldi sono in cassa quindi plus minus insieme è plus è più ok quindi questa parte dedicata un po' di più alla amministrazione che ripeto è anche discrezionale ma perché dipende da quanto sul in quel momento sul mercato come dove sono sul mese cioè conta questa roba qua conta non è che non conta conta se vogliamo fare i trader e non vogliamo fare gli investitori lungo termine facciamo 5 3 dall'anno e se va bene guadagniamo se no abbiamo perso poco ma non è questo l'obiettivo l'obiettivo del trader è farlo e cercare di avere un incasso costante dal mercato continuo senza ovviamente andare troppo fuori i parametri di rischio avete visto io sono sempre molto scrupoloso su questo cerco di trasmettere questa cosa ma spingere quando c'è da spingere nei limiti ovviamente e incassare dove è meglio incassare a volte come in questo caso visto ripeto il cumulo che avevo e visto che io ho generato di là un qualcosa che al momento mi può andare bene qui si può provare a rischiare quanto si sta guadagnando sul tre sui tre sui due tre in questo caso poteva essere anche uno e cercare invece il movimento magari più più ampio ok questo è molto importante molto importante perché altrimenti noi ragioniamo ho messo il target là ho messo il target là e deve arrivare là ma chi l'ha detto non è così ok noi dobbiamo cercare di fare soldi sul mercato questo è farlo tenendo i rischi bassi medio bassi e gestendo le posizioni è questo no è questa la cosa quindi noi mettiamo dei target perché è giusto avere un obiettivo perché il mercato non sale sempre non scende sempre ma come dicevo anche prima di chiudere la stellina vi ricordate non so se la stessa mattina o la mattina precedente non è un problema se la chiudo un po prima o euro canada perché io ho messo una roba là un target ma perché se fa la fiammata me lo piglia buona io posso essere a mangiare un gelato a bere un caffè fuori e io vengo eseguito benissimo ma poi nella gestione importante perché poi alla fine ripeto non è che il mercato poi ti dà la pacca sulla spalla e ti dice bravo arduino hai studiato il corso di arduino hai studiato il libro di chi chi volete di gioros piuttosto che di qualcuno e hai fatto tutto perché c'era il rischio rendimento perché lì c'è il livello perché questo perché quello quindi devi andare là no non è così non è così il trading non è così a meno che non facciamo un trading sistematico allora abbiamo non so x punti di rischio per x punti di guadagno perché quel mercato in quel momento ha una volatilità di top no questo non è il mio qua si è discrezionale si segue l'andamento si cerca di lavorare al meglio di quello che è il mercato in quel momento e fare le scelte migliori prima di fare una scelta pensiamo quale potrebbero essere le altre scelte e a livello di efficacia nei risultati quale potrebbe essere secondo me secondo i miei obiettivi la scelta migliori ecco il pacchetto ultimo dell'ultima settimana dieci giorni dove ho fatto delle scelte benissimo tutto perfetto tutto bello sterile nero canada zoom in cassa preso dai minimi questo proviamo provo a farle andare ma perché è un cumulo fosse stato solo il dax non lo so se avrei tenuto capito cioè perché alla fine quello che conta è guadagnare questo è sì però non è che si acquisisce con il tempo e basta già cioè nel senso non è perché uno fa trading da vent'anni che lo acquisisce bisogna lavorarci è importante è importante già quindi non è perché lo fai da vent'anni che poi alla fine per forza ci arrivi non è detto io nel mio nella mia storia facendo anche il seminario in giro per l'italia ne ho fatti un milione con i g siamo andati ovunque siamo andati dal sud al nord abbiamo fatto tutte le città italiane milano sono andato mille volte fatto corsi da persino da 300 persone abbiamo fatto di tutto e mi è successo tante volte di trovare persone che mi dicano anche più grandi di me qualche anno fa per esempio mi ricordo ero forse a roma se non sbaglio questi due amici mi sono venuti ma succede spesso e hanno detto è perché noi facciamo trading dai primi del 2000 però ancora facciamo fattica quindi non è non è proprio c'è una cosa comune questa bisogna lavorarci io quando quando no quando vi dico guardate a fine anno che cosa avete fatto l'anno prima che cosa state facendo no nel passato quindi andarsi a vedere un po il quello che c'è da fare poi spesso cosa succede che se uno vede dei risultati non buonissimi o magari dei periodi non buoni tende a fare che cosa nella stragrande maggioranza dei casi tende a cercare il trader che gli insegna allora siccome oggi su internet poi c'è tutti questi social quindi ci sono c'è un sacco di roba che ti arriva gente spende un sacco di soldi per farsi pubblicità no e quindi ti vuole vendere quindi uno quando trova il periodo spesso cosa succede soprattutto nei primi anni va alla ricerca del trader che gli spiega delle robe no poi è ovvio che in giro c'è anche se vai da uno e ti trovi anche poi capisci che quella persona non è in grado non è cioè ti spiega ma non ci siamo è ovvio che cerchi anche qualcun altro che ti possa dare una mano e insegnare delle cose sane è ovvio ma io sto parlando mediamente uno che va per esempio io dico della mia esperienza senza senza andare da altri una persona che è venuta da noi se poi in cerca di imparare perché vi dico noi cerchiamo di trasmettere le cose sane le cose che possono essere replicabili e soprattutto che per me a me a anto a tanti di voi fanno guadagnare nel tempo in modo costante quindi non è impossibile ma poi se non c'è un lavoro quindi se poi dopo questa persona vede si guarda dopo due anni dice però c'è ancora il periodo lì oppure no sono appena break even oppure non ho guadagnato quanto volevo no è successo e allora dopo va in cerca invece di fare un'altra cosa cioè va in cerca poi della dell'altro trader che ha trovato su internet gli arriva fuori la strategia dal 90 per cento pure la strategia poi mettono dei termini anche un po strani apposta perché così a livello di marketing no ti porti ti colpiscono no quella parte del cervello di cui antonio parla spesso e tu ti fai abbindolare ah questo adesso ha la strategia che si chiama volumi cose oggi poi va di moda ste robe e allora ti fai e poi capisci che alla fine torni sempre lì e ci sono persone che dopo 20 anni sono ancora lì che non non riescono e quindi invece io per esempio quando nel mio passato mi sono guardato indietro ho visto periodi che magari potevo essere meglio potevo migliorare in certi punti non sono andato alla ricerca di altre cose io vi dico sono uno di quelli poi che non segue niente soprattutto in italia cioè proprio non ho mai seguito nessun non è proprio non non voglio perché io ho il mio io guadagno col mio so che funziona le mie cose avete capito quindi non voglio andare a sporcarmi la testa non mi interessa poi magari sono anche cose belle per carità ma non è quello io alla fine poi guardo il risultato quindi cosa ho fatto io dico dov'è che sbaglio dov'è che sbagliavo in quel periodo magari dov'è che e mi accorgevo che magari avevo dato affidamento troppo non so al target allora o target stop no nei primi tanti anni fa oppure altre modalità quindi non si andava ad avere una gestione attiva non facevo il trader facevo il sistema quasi no è perché il trading deve essere scientifico non è scientifico il trading non il mercato non è scientifico il mercato è ricco di emozioni del mercato e tutte le compravendite domande offerte sono tutte influenzate dalla mente umana da quello che no alle fluttazioni euforia panico indecisione tutte queste cose anche abbiamo dei abbiamo dei come si chiamano dei pattern il la indecision bar cioè la barra di indecisione si chiama così quindi invece di andare a girare il mondo e trovare quello che ti dà la formula magica quando capisci che quello che stai facendo può essere buono vai persevera e vai a lavorare su quel contorno che non è neanche tanto un contorno che magari ti può fare guadagnare quindi io negli ultimi anni soprattutto quando ho fatto delle anni precedenti ho provato a fare delle delle cose anche un po sono ritornato indietro mi sono involuto nella mia evoluzione e sono ritornato a fare delle cose che facevo prima con un po più ovviamente di evoluzione e guardando anche molto l'obiettivo di fine mese di fine trimestre di fine anno va a lavorarlo vedere quanto sto guadagnando quanto posso incassare perché poi alla fine quello che tu vedi lì sulla piattaforma in quel momento è certo tutto quello che succede poi è incerto ok ovviamente bisogna fare affidamento nelle nostre analisi cercare di crederci come diciamo sempre ma crederci con una gestione amministrativa perché alla fine non conta che tu hai fatto i compiti per casa perfettamente nel trading conta che tu a fine mese porti a casa i soldi questo è quello che io ho imparato e bisogna gestirlo non c'è niente da fare non c'è una regola fissa non c'è perché sei più bravo sei tenuto la posizione sei giorni in più perché no non è così non è così ok non è così questa è la mia esperienza poi per qualcuno di voi sarà così c'è chi fa sistemi automatici c'è chi ci guadagna anche sistemi automatici che quindi ha un modo molto più ci sono i compiti per casa che sono x e io li faccio tutti x per forza perché così poi nel lungo periodo avrò benissimo a con me con me non funziona può essere che io anche sia un tipo di carattere personalità su cui io mi ricordo quando c'era già marco che saluto che faceva dei sistemi ma anche quelli con la ftv per esempio sul daily io li ho tutti se volessi andrei a inserire dicevo anche ieri con roberto in cocina andrei inserire i sistemi ma io non riesco a fare andare delle cose così no in maniera random matematica no non riesco non riesco io ho bisogno di fare una cosa e crederci ok crederci in maniera ferma